No, boh! Prodi, vado, vado! Vado, 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 vado! Io registro tutto! Va, vai, vai, vai! Vabbè, avevo 54 gasse! E' una parte di quattro, e abbiamo una parte di quattro! Oh, abbiamo una parte di quattro! Oh, abbiamo una parte di quattro! Oh, ci sono i mortici! Oh, bene ho questo! Eh...è, è mortici! Perché è una parte di quattro! per ora niente se non trovo niente per ora niente 5 gemme mamma mia ho 35 gemme io ho 40 ancora niente ho aperto 8 casse piccole aspetta anch'io mi invidi tanto mi faccio un'apporto ho trovato niente ok io ne ho aperte 9 e non ho trovato niente aspetta c'è Zulfid che mi chiama ma c'è Zulfid che mi chiama ma no ovviamente ma quanto ti lag a te? ma no perché sto registrando ah vai vai fammi aprire una vai quante grandi ce ne hai? eh una mi la fai per quella grande alla fine e io posso apertene una vai 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 dai chiamati su oh si Tatiana eh niente niente tu ne ho il prime dai e io voglio trovare qualcosa dai forza carletto vai Mona no no vabbè se mi prendo ora mi lag a non c'è nessuno che gioca bro non c'è nessuno che gioca bro non c'è nessuno che gioca bro dai eh oh Eugenio guarda guarda mi sto spacchettando raga ma io sto spacchettando no non c'è nessuno ma mi sa che ti da eh no va che prendo strabello no la mia non si connette a rater non so cosa ma so farlo io eh so farlo si ma anch'io lo so fare ma ehm no non si connette ma non si connette ma non si connette ma hai posto quant'anni carino no stasi dai che fai guarda dai per ora non sto trovando niente ah ma se non trovo niente va mamma mia quanto quanto piccazzo ah due ne hai trovati nei quattrocento dai ahahah ma questa è rima carotta dai che sto ridendo ah un potato non so carotta aspetta ma la parola cosa ho una partita ho 5 nu raga niente per ora guardate ma dai niente io voglio trovare tipo 20 non ho trovato niente vabbè solo 25 ma si ma li hai perché hai un botto di cose non ce lo sei napo non ce lo sei napo dai ne mai te guarda che una bocca è ti sto guardando non so non l'ho capito ma c'era anche boris si oh oh ma quanto è niente eh manco magari porto qualcuno è una carina aspetta no non ne posso prendere una vai 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 dai non troviamo niente cipolla e oh oh ho fatto vittori ma dai scogliale spegni stupido ho fatto vittori grande io ho 20 casse dopo fammi aprire un'altra vai vai si marello marello no boi ciao 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 mamma mia devo fare una partita se no se vinco la mega cassa no no carlo no chi ha trovato carlo nessuno forse troverai carlo io voglio trovarne almeno uno no dai dai io lo voglio trovarne mamma mia sapete quanto ci ho messo per accumulare queste casse carlo carlo oh 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 ho trovato carlo ho trovato carlo chi oh bella hai trovato carlo aspetta che faccia lo screen hai trovato carlo shhh vai adesso svegli oh oh posso vedere anche i brawler oh quanto shop 99 quelle che ti mancano 99 vai dai sei stessi 109 99 aspetta che mi ho seleziono oh oh ora staranno ridicando ah vai ancora in corazione quante case hai trovato carlo 49 noi noi ascoltiamo il penino più cadere più cadere più cadere più cadere più cadere beh guarda che sono stato anche strasfortunato perchè potevo trovare qualcun altro di chi si può trovare cioè a 3000 ma guarda che grax in 15 casse ha trovato un leggendario e carla oh leone e carla guarda angel come che c***o ma hai trovato carlo ho 10 casse non ho trovato noi ci possiamo davanti e non ho trovato hai ciò fatto no hai ciò fatto mamma me la gara hai ciò fatto hai ciò fatto 110 euro fa vedere le gemme aspetta lo sto caricando mamma che è ciò fatto 110 euro hai ciò fatto diventa hai ciò fatto hai ciò fatto hai ciò fatto 120 euro hai ciò fatto hai ciò fatto come è 100 tutti iscritti 100 100 800 la doppia gettoni ne voglio mille 5 casse 110 euro si è scioppato vai ti ambo vai no 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 fido ti fido su aspetta che ah fai il lag no che va a metterli abbassa voglio vedere chi uscita aspetta che stai dentro faccio così così quante c'era vai però c'era cosa guarda che te ti apre il voto di mega casse ma si ma lui ora trova il mondo mamma mia c'è un straudotto di gemme guarda che se ci vanno 110 euro adesso si apre mega casse ho mille ho mille raddoppiaggettoni no l'ho fatto se ci vanno 110 euro mi hanno espulso ho l'ultima cassa vediamo io no io le mega vai ricky che non l'ha ancora aperta me l'aveva chiesto non vuole no ricky continua vabbè vabbè buono 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 vai ora chi è che gioca con me io io vai noi tre oh ricky ci ha fatto 110 euro puoi vedere le gemme puoi vedere le gemme puoi vedere le gemme si si eh sto mettendo una carta di credito in me ecco io mi sono i conti la carta di credito 112 mega casse riesce ad aprire no 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 9000 diviso 80 9000 aspetta 9000 aspetta ma come 9000 2.000 vengio 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 vai ci sono vai facciamo aspetta chi ha il capo vai metti metti a raffa gemme no non vengono 25 ma 25 ma c'è il livello basso ma si ma così troviamo i nabbi ok vero? io... io ho penne e io giro come vediamo come funziona 410 c'è un altro caldo c'è un babolo si lo so oh cazzo 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 dai ti ho colpito calbru è stra difficile da usare uno ho preso la stellina aia aia no senti guardatemi guardatemi bub che figata io oggi è straugato io ho una leggendaria però mio dio mio dio vai dai recente guardami il suo è morto non è vero è morto oh giocate qua giocate qua è vero non è vero che stu non è vero non è vero vai 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 si mi ha colpito no si era curato bro posso dicare con voi io vado a colpire piper no sono sopra di noi bro sei solo c4 bro sei solo c4 bravo dai l'ho ucciso l'ho ucciso torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro vabbè vabbè grandissimo grandissimo vabbè torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro un altro grandissimo stiamo facendo il bordello vai girate girate intorno tu 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 si grande oh raga oh raga oh raga oh raga oh raga stai qua stai qua stai qua oh raga stai qua chi è questo oh carlo oh carlo chi è che è? ma io ce l'ho ma non mi funziona prova col suo no stai vivendo lui ora chi è che gioca con me io io e ricchi fai fare la partita lì oh faccio lì carota no posso venire io ci l'ho invitato vai ma chi è carota? ti ho invitato eccoci vai vai se c'è casarotto o altrimenti vediamo un po' il sagaro vinciò casarotto si è vero guarda vinciò ho trovato casarotto ho trovato un genio io ho appena trovato stecca aspetta aspetta un attimo mi metto l'immagine di carlo nel profilo aspettate grande per trovare stecca io metto stecca io metto stecca ma come si fa? posso fare una partita? ti mando in amiche le volete? no no è stra difficile no ma che è stra difficile da usare dai 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 mettete pronto oh mettete pronto aspetta 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 vai metti pocio vai 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 ma ma mostrava una bobba cara io non lo so usare stecca è la prima volta che ce l'ho si si ma tanto così troviamo i napi anch'io però stecca non mi piace tanto c'è fa strappogli guarda io sono lo so la super mossa o io vado un altro qua raga mi sta raggando oddio oddio raga mi sta raggando devo posso fare una partita fumato quanta poca vita shish 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 devo posso fare una partita no dai wow non lo sapevi oh andiamo a perdere le gemme raga ho ucciso uno raga ma hai scoperto adesso che nei pulmi non ci sono le tendine oh scolzato ci sono le pulmi oddio oddio seria me no non ci credo è la lingua dormi dormi no stavo per uccidere bo ok 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 ora non lo so è il bombardino oh vi mando una foto del mio tablet vediamo se si può ora dai dai usci dalla partita c'è il bombardino quello che hai te è puro si 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 grande ricky alzatela raga oh ricky ti ha detto che ho trovato frank nel tablet io ho trovato le oro sul tablet più che altro mio fratello non mandarlo io l'ho trovato stecca poi lì ci hai trovato beryl ma raga no 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 stai prendendo quelle gemme no perchè sono morto io prima ahia vai 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 grande ahia bravo mi ricordo un attimo ho sette gemme no 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 ho vinto con flexo vai raga mando la foto adesso vedete oddio ah raga prendete quelle gemme no ma mandi mandi no eh ma ho poca vita ho poca vita ho poca vita aspetta provo a sparare com'è che funzioni grande chi è questa guardate lo fidate io guardate un ultimo un ultimo me la prendo e poi vado no no non mi fai giocare fiumatò mi fai giocare no 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 vai 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 dai anche io voglio giocare però facciamo le tre dai eh oh ricky ti invito dove è di essere bucato che io ho il tablet adesso un pochino ok cosa usi vai io uso carlo calca c'è c'è vai vai hai mortis anche io ce l'ho ma io non c'è non c'è il gioco a football ma io no il gioco a football vai c'è perché guarda guarda carlo quanto spacca veloce le ceste guardalo può vedere può vedere può vedere se c'è un muro davanti guarda si spacca straveloce quando ti cominciano tu non c'è no tu vieni tu non c'è ma non c'è no mi fai non c'è o c'è una fai oh ma andatelo su io ho trovato stecca si si chi lascia solo Martino aspetta c'è chi vuole C'è chi vuole garanti Anje Anje Dove sei? Arrivo. E' che qua ci sono due carni. Sì, sì, arrivo. Vecchio, guarda che c'è un altro piano. Mi sembra più riuscito. Viglio il cazzo. No, la gente è unicato. Vettato. Vai, 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 vai. Grande, grande. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Dopo vai a prendere le tecche e c'hai lo scudo. Sì, sì, sì. Sì, 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 lo so, lo so, lo so. Vai, vai. Bravo. Ma perché non mettono squadra? Come ti lagga lì, ah? Ma che? Non mi lagga niente. Eh, vabbè, non potevo fare niente. Possiamo giocare in tre? No. Ma stai continuando a girare. Beh, almeno a me da più quattro. Dai, fate una partita con me. No. Dai, per favore. Che fai stupendo? Dai, parti. No, dai. Dai. C'è un po' di gioco. Dai, non mi fai. Stai giocando. Ci sono modalità intrabbelle, a parte il football, però c'è una tecnica che tu non sai. Oh, posso giocare? Posso giocare con noi? Ah, mi sai che ho fatto il tuo record di San Perugino. 10.000, 10.000 ho fatto. Ma come ridi, Bruno? Sì. Adesso ti capisco. Adesso ti capisco cosa hai fatto. No, 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 poi ci sei fatto. Dai, vai. Ok, ok, scappa, scappa. Mi laca. Sono arrivato a 14.000. Da me sei fermo. Non ti hanno ancora ucciso? Ora ti hanno ucciso. Chi è questo? Ma dai. Ma dietro, ma dietro, mi inviti, tesora. Va bene. Ma come? Allo giochi a me no. Ma perché con lui non ho mai... Cioè, è da tanto che non ci gioca. Ma non vedi di giocare non nel tablet? Non devi essere sull'Ira che ho già rotto. No, dammelo. 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 Ho 2300 monete. Ma è ciò passo. No. Quanti brawler devi potenziarti? 22. Ma ti hai perché non... 22. Cosa? Brawler che ti devi potenziare. 12. Ah, 12. 25. Eh. Potenziti. Carl. Aspetta, poi Benny è una bestia. Seconda me. No, ma non lo uso tanto. Boh, boh, boh. Lo usi, boh. Sì, ma... Beh, vabbè, finché è a livello del genere. No. Shelley non sto neanche... Coltasco, è abbastanza forte, però... Beh, per ora me le tengo. Eh, ok. Che tra poco mi detenzio lui e lui. Mi metti caldo. No. Dai, giochi con me. Vuta fuori lì. Invitami, invitami. Ma no, no. Non mi sei bagata. Non mi sei bagata. Non mi piace essere Ricky. C'è Ricky Brawl. Anna Fred. Come è Ali? Non mi sei bagata. Non mi sei bagata. Non mi sei bagata. Ma che buu è. E che buu è. E che buu è. DSS è Ricky. Non è Ricky Brawl. Ah, ok. Vai, giochiamo. Stato, ti invitami. Eh. Ecco. Ma vuotrote. Sì, dai. Guarda, guarda.